si era importantissimo vincere questa partita e anche che se abbiamo fatto fatica a vincere contro merano perché hanno fatto una difesa molto dura molto tosta era importantissimo di vincerla e l'abbiamo fatto e abbiamo preso quei tre punti molto importante vogliamo arrivare nei playoff quello è il primo obiettivo poi non so che è possibile anche forse di più ma al primo vogliamo arrivare in quel quattro posti secondo me a noi non è che ci è mancato niente invece il bressanone aveva uno straniero oggi che soprattutto il secondo tempo ha fatto un'ottima partita non siamo riusciti a fermarlo e secondo me questo quello era la grande differenza se no devo dire tanto di cappello quello che ha fatto la mia squadra oggi veramente nonostante che stanno giocando giocatori giovani hanno fatto secondo me un'ottima partita e certo in certe occasioni abbiamo fatto degli errori un po' mancava anche l'esperienza però quello ci sta noi oggi abbiamo giocato col merano non c'era nessun giocatore non avevamo uno straniero non avevamo un italo cioè nostro si è fatto male purtroppo due settimane fa e si vede anche che la nostra squadra adesso pian piano ognuno si rende conto che deve prendere più responsabilità ognuno e secondo me sta crescendo veramente una bella squadra